Buongiorno ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi sono in cucina, come potete vedere, perché ho finito la crostata per la colazione e siccome devo rifarlo, ho pensato perché non fare un tutorial in cui faccio vedere come realizzo la mia crostata per la colazione e si tratta di una crostata veramente light perché è senza burro, quindi andiamo subito a vedere come si fa. Per realizzare la nostra crostata abbiamo bisogno di 3 etti di farina, 100 g di zucchero, 2 uova, poi avremo bisogno di mezza bustina di lievito per dolci e 100 g di olio di oliva, poi ci servirà della marmellata di amarene, ci servirà poi un mattarello per stendere la pasta e io utilizzo anche una rotellina di questo genere, una rotellina così perché io quando faccio le strisce che metto poi sopra la crostata mi piace che siano seghettate diciamo e quindi utilizzo anche questa, se non l'avete ovviamente potete usare un coltello normale. Iniziamo subito con la preparazione della crostata e andiamo ad unire lo zucchero con le uova, quindi versiamo lo zucchero e poi aggiungiamo le uova. A questo punto dobbiamo girare zucchero e uova in maniera abbastanza energica. Quando avremo mescolato zucchero e uova dovremo aggiungere l'olio di oliva. A questo punto dobbiamo aggiungere la mezza bustina di lievito per dolci, mi raccomando che sia lievito per dolci e non lievito per il pane. Mezza bustina. Ne approfitto anche per farvi vedere la mia mollettina con la cocinella con la quale chiuderò la bustina di lievito. Poi giriamo il composto. Quando avrete raggiunto un composto privo di grumi e ben amalgamato dovrete aggiungere la farina a pioggia e girarla molto lentamente. Giriamo molto lentamente. continuiamo a girare, come potete vedere, vedete che è già comunque abbastanza solido. Poi finiremo di impastarlo ovviamente con le mani. Però al primo impasto io preferisco farlo così. È molto più veloce e molto più comodo. A questo punto aggiungete ancora un pochino di farina, quel tanto che basta per poter togliere l'impasto dalla terrina e metterlo sulla carta forno per poterlo poi lavorare. Quindi aggiungete poca farina, lo girate ancora un attimo. Versate il vostro impasto sulla carta forno, in questo modo. A questo punto cominciamo a lavorare l'impasto a mano. Quindi versiamo della farina perché ovviamente deve essere un impasto che non si attacca poi alla carta, quindi dovete cercare di renderlo il più possibile morbido, ma anche il più possibile lavorabile. Questa è una pasta frolla molto molto morbida, quindi anche senza l'utilizzo del burro potrete ottenere esattamente lo stesso risultato. A questo punto abbiamo ottenuto un bellissimo impasto e quindi possiamo stendere la nostra pasta frolla per cominciare a fare la crostata. Non esagerate mai troppo con la farina, però insomma potete utilizzarla perché il mattarello potrebbe attaccarsi. A questo punto abbiamo steso la pasta. Il tegame è di queste dimensioni, quindi io di solito faccio così. Lo giro, lo giro al contrario, lo metto sulla pasta stesa e calcolo ovviamente un pochino di bordo, quindi poi vado con la rotellina a tagliare intorno al tegame, ovviamente lasciando più o meno un centimetro di bordo. Quindi fate proprio questo lavoro, in modo che poi vi rimanga anche la pasta sufficiente per fare le striscioline. Quindi a questo punto la pasta intorno la possiamo togliere e poi la rimpastiamo per fare poi le diverse striscioline e se c'è spazio anche per una piccola decorazione, ora poi vediamo. Mettiamo da parte l'altra pallina e a questo punto possiamo mettere la nostra torta all'interno del tegame. A questo punto dobbiamo farcire la nostra crostata e quindi andiamo a mettere la marmellata di amarene. Io come sapete le mie ricette sono molto semplici, molto veloci, molto casalinghe. Io non posso sicuramente competere con quei video che ci sono su youtube di ricette fantastiche con delle persone veramente bravissime. Io diciamo che cucino con voi, ecco, non vuole essere assolutamente il mio canale, un canale di quelli da grandi chef. Però insomma qualche piccola idea, qualche piccolo suggerimento può essere sempre utile. Ecco a questo punto abbiamo steso la nostra marmellata di amarene. questa marmellata è del tipo con i pezzi di frutta, quindi ovviamente se prendete questa dovete distribuirla in modo un pochino uniforme. Ecco a questo punto andiamo ad abbassare il bordo. Ovviamente cercate di fare piano perché potrebbe essersi attaccato un pochino alla carta, quindi per evitare che si rompa lo tirate giù ma fate piano piano. Ecco a questo punto dobbiamo fare le strisce da mettere sopra la nostra crostata. Quindi la mettiamo un momento da parte, andiamo a prendere di nuovo un pochino di carta forno con un pochino di farina, tanto per evitare che si attacchi la pasta al mattarello e la stendiamo. La stendiamo per lungo perché poi le striscioline saranno comunque verticali. Mettiamo un po' di farina perché si sta attaccando il mattarello, quindi facciamo una cosa di questo tipo. Non ne serviranno tante perché io ho fatto una crostata abbastanza piccola, siamo solo in due in casa, quindi è inutile che io mi metta a fare una crostata enorme. Ecco a questo punto tagliamo, come vi dicevo, le striscioline in questo modo. Quindi andiamo a tagliare così. Ecco a questo punto mettiamo un attimo le striscioline da parte, prendiamo di nuovo la nostra crostata e andiamo a mettere sopra alla nostra torta le striscioline. Mettiamo la prima, mettiamo la seconda. Poi dipende se vi piace che sia più o meno farcita di pasta, diciamo così, quindi quello poi stavo e sceglierlo. Io ne metto un pochino di più perché mi piace che sia insomma abbastanza ricca. E poi dall'altro verso. Quindi metteremo così. Andiamo a mettere l'ultima striscia. A questo punto prendete una forchetta e andate a premere leggermente sul bordo per fare un lavoro un pochino più estetico. A questo punto è avanzata della pasta, quindi io vorrei fare una piccola decorazione da mettere sopra la mia crostata e pensavo di fare delle roselline. Quindi andiamo a vedere come si realizzano. Metto un attimo da parte la crostata, ritorniamo sulle nostre striscioline di pasta che sono avanzate e andiamo a realizzare delle piccole roselline. Questa volta ovviamente le striscioline che ci serviranno saranno molto molto più piccole, quindi non è il caso di stenderla troppo. La possiamo anche piegare così in modo poi da avere una stesura della pasta abbastanza uniforme e di una misura che insomma possa andare bene. A questo punto cosa facciamo? Andiamo a tagliare di nuovo delle strisce, questa volta io ne farei tre. La rosellina di pasta è sufficiente arrotolare la strisciolina su se stessa mantenendo pari la base, quindi in questo modo tenete la base ferma e arrotolate la pasta in questo modo. Una volta che avrete ottenuto questo andate ad allargare leggermente la parte di sopra e vedete che avete ottenuto un fiore che io andrò a posizionare al centro della mia crostata, in questo modo qua. Ecco. Ovviamente quando avanza la pasta si possono fare tante cose, ad esempio adesso a me ne è avanzata ancora un po' e io pensavo di fare un'altra cosa, pensavo di fare delle piccole palline di pasta da andare poi a mettere tutto intorno alla nostra crostata. Quindi realizziamo delle piccole palline di pasta in questo modo, quindi le andiamo a posizionare sulla crostata. Io le andrei a mettere sul bordo, quindi così semplicemente appoggiate sui bordi, fate prima i quattro bordi in modo che venga una cosa diciamo più uniforme possibile. Ci sono le ultime due, quindi le posizioniamo così. E questo è il risultato finale della nostra crostata. A questo punto la nostra crostata è pronta per essere infornata, la mettete a 180 gradi per 25-30 minuti. Questo è il risultato della crostata che abbiamo fatto appena sfornata, vi assicuro che ha un ottimo profumo.